castrarlo o non castrarlo questo è il problema oggi vi parlerò della castrazione un argomento molto dibattuto su cui c'è tanta confusione prima però fatemi mettere il camice altrimenti non si capisce che sono una veterinaria esistono due tipi di castrazione la castrazione fisica e la castrazione chimica la castrazione fisica ovviamente è quella chirurgica quindi che prevede l'asportazione dei due testicoli con un piccolo taglietto prescrutale è una chirurgia molto veloce dura una ventina di minuti e comunque il post operatorio è velocissimo recupero immediato e pochi poco dolorosa la castrazione chimica invece prevede l'impianto sottocutaneo di un farmaco a lento rilascio il supraellorin che è un farmaco appunto che va a inibire la produzione di testosterone la differenza è che la castrazione chimica è reversibile dura circa sei mesi quella fisica ovviamente non è reversibile faccio questo video perché sicuramente se avete acquistato o adottato un cane maschio a un certo punto della sua vita qualcuno vi avrà detto ma non lo castri è meglio che lo castri come suggerimento e quindi qualsiasi proprietario di cane maschio arriva a un punto della vita del suo cane che deve decidere lo castro o non lo castro questo è il problema ricordatevi che la castrazione di per sé non è qualcosa che è bene fare è meglio fare o che fa bene va valutato su ogni singolo paziente i pro e i contro ogni cane infatti è diverso dall'altro e l'assenza di testosterone può avere sì effetti positivi ma anche effetti negativi a cosa serve il testosterone sicuramente serve per inibire tutti i comportamenti sessuali quindi ad esempio la ricerca fuga dai giardini perché sente l'odore della femmina in calore unulare oppure l'aggressività fra maschi quando la competizione per la femmina tutti questi comportamenti però possono essere anche slegati dalla competizione sessuale quindi un cane può scappare dal recinto per altri motivi può essere aggressivo competitivo per altri motivi quindi non è detto che andando a togliere il testosterone risolviamo il comportamento indesiderato il testosterone però ha un altro ruolo fondamentale che è quello di dare coraggio sicurezza in se stessi questo perché ovviamente il testosterone spinge il cane verso il mondo esterno per competere per la femmina quindi per tutti quei cani che sono fobici paurosi l'assenza di testosterone può peggiorare di molto le cose la frase che spesso vi viene detta castralo che si calma è riferita quindi erroneamente anche a comportamenti che in realtà non hanno nessuna base sessuale tipo ad esempio i cani fobici i cani aggressivi per paura i cani iperattivi quelli senza autocontrolli tutti questi cani se sottoposti a castrazione peggiorano quindi se stai pensando di castrare il tuo cane per motivi comportamentali è fondamentale che prima o fai una valutazione comportamentale con un comportamentalista o almeno provi la castrazione chimica che quantomeno è reversibile in questo modo se il tuo cane dopo la castrazione chimica peggiora passato i sei mesi almeno torna allo stato iniziale cosa che non può succedere se fai subito la castrazione fisica la castrazione però a volte viene suggerita anche per altri motivi come ad esempio scopi preventivi cosa c'è di vero se il tuo cane è criptorchide quindi a uno o due testicoli ritenuti a livello inguinale o addominale vanno assolutamente tolti perché vanno incontro a degenerazione tumorale quindi non è un'urgenza si possono togliere a uno due anni di età senza fretta ma vanno tolti quindi in questo caso non si può evitare la castrazione ovviamente il testicolo in sede quindi quello che è ancora in sede scrotale può essere lasciato ma è fondamentale che il cane poi non venga fatto accoppiare perché è una patologia che si trasmette alla progenie quindi se per motivi comportamentali il tuo cane ad esempio fobico iperattivo aggressivo per paura devi togliere solo il testicolo ritenuto puoi lasciargli quindi il testosterone prodotto dal testicolo in sede molti di voi invece fanno la castrazione per prevenire i problemi prostatici cosa c'è di vero allora per quanto riguarda il tumore prostatico non è vero che la castrazione previene il tumore prostatico anzi se si castra troppo precocemente rischia addirittura di aumentare l'incidenza di tumore prostatici quando invece si parla di iperplasia prostatica che è una patologia benigna che viene in vecchiaia a quel punto si può castrare quando si presenta inutile castrarlo prima cioè non lo castro due tre anni per prevenire l'iperplasia prostatica a dieci anni se gli verrà l'iperplasia prostatica faccio sempre tempo a castrarlo la castrazione precoce inoltre favorisce altre problematiche quindi l'incidenza ad esempio di obesità di lassità articolare e altre tipologie di tumori quindi la castrazione precoce non è mai consigliabile mentre la castrazione in tarda età se si presentano dei problemi come anche tumore testicolare ad esempio può essere effettuata la castrazione come cura quindi è effettivamente consigliata quando si presenta iperplasia prostatica tumori testicolari che comunque sono molto diffusi ma a comportamento benigno quindi non vi preoccupate nel momento in cui si presenta un tumore testicolare fate sempre tempo a castrarlo e poi in caso di ernia perineale in questo caso la castrazione è obbligatoria proprio per fare la chirurgia di ernia perineale la castrazione come cura quindi è consigliabile in caso di iperplasia prostatica tumori testicolari entrambi quando si presentano quindi quando il momento in cui il cane ha iperplasia prostatica tumori testicolari avete tutto il tempo per fare la castrazione oppure in caso di ernia perineale in questo caso proprio la chirurgia correttiva dell'ernia perineale prevede la castrazione questi sono i motivi per cui non si può evitare se vuoi approfondire ulteriormente la biografia sulla castrazione e la sterilizzazione del cane trovi un corso on demand su amica veterinaria school ti lascio il link in descrizione se hai ulteriori dubbi scrivimeli nei commenti 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 se hai ulteriori dubbi scrivimeli nei commenti